Sono Enzo Tosti, il portavoce della rete di cittadinanza e comunità, una rete associativa che comprende 27 associazioni e la terra dei fuori, nella provincia di Napoli Nord e il Basso Casestano. Che cos'è il progetto Veritas? Un progetto che tende a restituire verità alla comunità che grida giustizia per capire se nel sangue di questa popolazione, in questa terra, ci sono veleni che possono in qualche maniera scatenare patologie leugeniche e chimorali. Io sono un edifico e a titolo personale mi sono posta queste domande e sono felice di partecipare a questo progetto. Perché donare? È un progetto che cerca di restituire verità a questa terra, un progetto che vuole dimostrare in qualche maniera che da basso è possibile organizzarsi. Cosa si propone il progetto Veritas? Cercare all'interno dell'organismo elementi inquinanti che possano derivare dalla vita. La comunità che si organizza con la parte scientifica di questa terra, quella buona, per dimostrare che in qualche maniera dal basso, con pochi soldi, con pochi fondi, è possibile distribuire verità a questa terra. Al fine di avere una risposta a livello scientifico, sincera e libera da qualsiasi tipo di influenza. Al fine di avere una risposta a livello scientifico, sincera e libera da qualsiasi tipo di influenza. Grazie. Grazie.